Ok, siamo a Collagatta, quella più in basso di tutti, spiaggette con montagnazza. Grazie a tutti. Siamo sempre a Collagatta, questa è tici da cinema con soppressione, rumore e vento forte. Grazie a tutti. Questa è Kirra, una spiaggetta senza nessuna paletesa. Grazie a tutti. Il solito vento è 32-33 gradi. Spiagge però mezze vuote, considerando che sono queste tra le principali spiagge della colposta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.